ciao tino siamo qui al rifugio telegrafo grande questo bellissimo bellissimo i ragazzi grandissimi ragazzi tra rinascita il nostro canale rinascita bellissimo oltre i 2000 metri di una cosa oggi il telegrafo è andato quindi cosa vuol dire che i rotti metri li abbiamo fatti telegrafo ragazzi 22 22 siamo sulla la croce e forse mettiamoci facciamo 2250 siamo sulla via giusta perfetto salute a tutti i ragazzi della rinascita ciao alla prossima grazie